Ho deciso, mi allenerò per correre la maratona di New York. È molto importante assumere carboidrati da due a quattro ore prima di una corsa impegnativa. La colazione ideale è ciambella, una banana, avena, fragole e una spremuta d'arancia. Ecco biscottino, come dice il libro. Grazie. D'ora in avanti, la mia sarà sempre una colazione da sportivo. I liquidi si digeriscono prima, così l'energia non va sprecata. Ed è tutta a disposizione. Attenti, non dovete mai sottovalutare l'importanza del pensiero positivo. Questa sarà la tua corsa migliore. Stai per realizzare tutti i tuoi obiettivi. Tu sei un robot arrivato dal futuro per vincere la maratona. Tu sei Marshall. Tu sei Marshall. Tu sei Marshall. Iridazioni ovesciche possono interessare alcune aree del corpo come i piedi, le ascelle e addirittura i capezzoli. È consigliabile lubrificare con vaselina le zone colpite. Ah! Ah! Oh! Oh! Ah! Oh! Ah! 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 Tu sei un gran maratoneta. Domani correrai e porterei a termine con onore la maratona di New York. Tu sei il migliore. Ma sai cos'è carino? Nessuno al mondo sa farlo meglio di te. Marshall, cosa stai facendo? Ah!